Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccare sulla cammarina che si trova qua sotto e lasciare un bel pollice all'ora in su chiusa questa piccola promessa iniziamo con il video vero e proprio allora ragazzi scusatemi se sono sparito per di grande per tutto questo tempo però avevo diciamo smesso un po' di fare i video però questa volta ho deciso di farli seriamente perché voglio far diventare youtube un mio diciamo secondo lavoro perché già ne sto facendo uno perché non vi dico e voglio trasformare youtube in un mio secondo lavoro quindi voglio fare le cose per bene questa volta e non per passatempo perché prima era solo per passatempo quindi questa volta farò le cose seriamente farò video quando diciamo ho la possibilità e ne farò uno massimo due al giorno sempre se ci riesco spero che questa volta vada tutto bene e che non lasci tutto quando a volte perché sinceramente non mi piace lasciare le cose a metà se questa idea vi piace lasciate un bel pollice all'ora in su così mi fate capire che mi sostenete che volete che io ritorni a fare i video come facevo prima con tutte le bestemmie tutto quando va bene se volete rivedervi i miei video vi lascio qua sopra nelle schede e niente poi farò un altro video diciamo per aggiornarvi un po' sulle novità che ho avuto in questi anni un piccolo spoiler vi faccio diciamo che nella mia vita è entrata un'altra persona quindi dopo il caso mai ve la presento e niente e va bene ragazzuoli faccio questo piccolissimo video proprio per introduzione dopo vi faccio un video un po' più dettagliato dove vi spiego un po' gli aggiornamenti le novità diciamo mie, personali, sentimentali eccetera e niente vi saluto e ci vediamo in un prossimo prossimo video arrivederci bella raga